Queste sono cose che ho detto ai miei giocatori, che è colpa mia per due motivi molto semplici. La prima perché la settimana non sono riusciti a stimolarli, a spingerli, ad allenarsi come avevano fatto fino a la settimana precedente. Non che non ci siamo allenati, ma ci siamo allenati secondo me con meno intensità ed è colpa mia. E la seconda è che alla fine dei tempi di valmentare dovevo dirgli di far farlo, non glielo ho detto. E quindi vi pregherei domani di scrivere su tutti i vostri giornali questo, è colpa mia, punto, basta. E ringrazio tutti i giocatori che comunque fino a 55 minuti hanno dato l'anima in campo. Grazie. 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 Grazie.